Questo grande evento sportivo e culturale tra i nostri amici from Norvegia della Rich Basket Academy E i nostri ragazzi cercati a Iommia Allora, esattamente un anno fa era il 18 febbraio, esattamente un anno fa 18 febbraio, un anno fa cominciò l'avventura tra Rich, Dante e noi E dopo un anno ci ritroviamo ancora qui insieme Adesso traduco in inglese, let's translate in norvegia Dopo un anno esatto ci ritroviamo ancora qui A metà strada c'è stata una splendida avventura, esperienza che i nostri ragazzi con Dante e Fabio hanno fatto in dicembre ad Oslo Per questo I want to say thank you to your hospitality for us in Oslo Thank you, thank you so much Thank you players, thank you parents, thank you Rich, thank you wife